Musica 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 Hola ragazzoli, benvenuti in questo nuovo video su Vitamones ragazzuoli ci andiamo a vedere come fare rp infiniti approfittatene in questa settimana che ci sono i peyote in mappa ragazzuoli io dopo questo video sarò in live per aiutarvi per fare ovviamente gli rp mi metterò in una sessione pubblica e potete unirvi da me per poter ovviamente usufruire del glitch è molto semplice ci avviciniamo un peyote qualsiasi sulla mappa una volta che siamo vicini al peyote abbiamo la freccia destra in alta sinistra premiamo option e ci uniamo ovviamente al mio contatto o a un amico poi io utilizzerò quello di anti kick in questo momento faccio unicità partita premerò freccia destra in continuazione e poi x quindi accetterò il messaggio ci sarà ovviamente la schermata buggata io sarò fisso in live in una sessione il lavoro da titano non appena ragazzuoli uscirà la schermata buggata e la schermata buggata finirà come in questo caso voi premerete cerchio e x e uscirete dalla lobby quindi ripeto ragazzuoli io starò in live in una sessione dal titano come vedete ci ha dato l'irp e voi quindi potete vedere ovviamente il live il tutto rifacciamo tutto quanto da capo vi faccio vedere anche un'altra chicca premerete option online vi unirete a me o un amico andete quindi su giocatori in questo caso utilizzerò anti kick vado su unisciti a partita premerò x in questo caso freccia destra mi raccomando quindi con tensione freccia destra e poi x una volta arrivati nella lobby aspettate che finisce l'animazione del peyote quindi questa schermata buggata dopodiché appena vi dava la possibilità premerete cerchio e x per uscire dalla lobby se ragazzuoli come nel mio caso ve l'ho lasciata apposta uscirà l'animale non vi preoccupate il glitch è uscito lo stesso l'irp ve li dà lo stesso voi basta che vi suicidate o finite l'allucinazione e ovviamente tornate nel posto di prima e avrete sempre il peyote per poter iniziare sempre i glitch come vedete ragazzuoli a me gli rp me li è dati lo stesso quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale ricordatevi che sono in live per aiutarvi e noi ci vediamo il prossimo video bella